Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale di Roberta. Oggi come avrete letto dal titolo facciamo un video tag. Per me i video tag sono una novità, infatti è il primo del mio canale e devo ringraziare Nunzia del canale Nuzia Nugetta, credo che si pronunci in questo modo, per avermi taggata perché questo è un tag che riguarda il nostro rapporto che abbiamo con il make up, diciamo dalla nostra infanzia fino ad oggi e quindi io risponderò a queste domande in quanto sia truccatore professionista, quindi persona che è nel settore, ma anche come beauty addict, come risponderebbe qualsiasi consumatrice abituale di make up che ama appunto consumarlo, comprarlo, riacquistarlo e quant'altro. Le domande sono tantissime, sono 21 e spero insomma di non perdermi troppo in chiacchiere. Alla fine del video vi dirò anche chi taggo a mia volta e spero che tutte le mie amiche e colleghe accettino appunto di fare anche loro questo tag perché è davvero molto molto carino. Allora cominciamo con la prima domanda, qual è il prodotto make up più vecchio della tua collezione? Io ho preso appunti altrimenti dimenticavo tutto. Per quanto concerne questa domanda non ho una risposta perché ho una collezione vastissima, molto molto grande e credo che forse il prodotto più vecchio della mia collezione non ce l'ho neanche più. Sare dovuta andare a guardare tra tutte le mie cose e scegliere forse quella meno recente ma puntualmente mi ritrovo a fare dei decluttering annuali e quindi butto via un po' di cose andate a male anche. Conservo magari dei prodotti terminati ma solo per il packaging per poi trovarmi tra qualche anno e dire caspita così mi truccavo con questi prodotti anni fa. Quindi diciamo che adesso non ho nulla da mostrarvi. Seconda domanda qual è il tuo ultimo acquisto? Molto semplice questi prodotti di Faberlic. Voi sapete è un'azienda russa che mi sta stupendo tantissimo, vende, propone tantissimi altri prodotti di tante categorie ma per quanto concerne quella del make up davvero i prodotti sono altamente qualitativi e gli ultimi prodotti che mi sono arrivati in un ordine fatto online per l'appunto da catalogo ho ricevuto gli ombretti liquidi quindi ho solo due ma me ne sono arrivati credo cinque e questo correttore che è anche quello che indosso oggi che è fantastico. Terza domanda qual è il primo prodotto per il trucco che hai mai usato? Allora molto semplice rispondere è il gloss perché solitamente almeno per quanto penso riguardi la mia generazione i nostri genitori non è che ci permettessero di truccarci molto diversamente da quello che oggi vedo in giro perché ci sono tante ragazzine di 13 14 anni super truccate. Io non mi esprimo perché non sono un genitore ma quando mi sono trovata in quella situazione da figlia quello che mi veniva concesso era un velo di gloss ma tutt'oggi gloss mi piacciono tantissimo e ricordo che ce n'era uno di cui ero particolarmente innamorata perché sapeva di frutta sapeva di fragola di credo gusto lampone anche ed erano quelli della Debbie che acquistavo addirittura nella merceria sotto casa. Non so se la Debbie attuale quindi l'azienda che ancora oggi vende i suoi prodotti nei supermercati nei drugstore ma mi ricordo perfettamente questi luci da labbra con la biglia quindi neanche con l'applicatore classico a cui siamo abituati oggi come può essere ad esempio questo sto parlando proprio di quei luci da labbra che avevano la biglia che appunto ruotava e che rilasciava un velo di colore ma molto molto blando. Quarta domanda qual è una tendenza del trucco che amavi ma ora odi? Allora io rispondo a questa domanda sia come professionista che come beauty addict e non ho assolutamente dubbi sto parlando dell'illuminante qui nell'angolo interno dell'occhio e anche sopra l'arcata sopraccigliare. Allora diciamo che per quanto concerne l'angolo interno è una tendenza che è un po' fuori moda non si usa più diciamo nei makeup a meno che non siano correttivi avete gli occhi molto molto ravvicinati è diciamo una tecnica che è un po' in disuso ma che vedo ancora tutt'oggi utilizzare da tante di voi che sono consumatrice ma anche da tanti colleghi. Per quanto invece concerne l'illuminante sull'arcata sopraccigliare è una cosa che io mi permettevo prima di aver fatto delle accademie e quindi dei corsi sul makeup e adesso non faccio più semplicemente perché ho capito di avere l'occhio infossato di avere una palpebra fissa ampia e molto sporgente e quindi in questo caso per rispondere a delle tecniche di trucco correttivo d'avvelimento diciamo non è corretto illuminarla perché altrimenti risulterebbe ancora più in evidenza. Quinta domanda al contrario qual è una tendenza del trucco che odiavi ma che ora ami? Io direi tutto quello che è metal. C'è stato un periodo che diciamo è cominciato circa dieci anni fa quando io appunto cominciavo i primi corsi di trucco in cui tutto quello che bisognava indossare era makeup opaco sia per le labbra ma soprattutto per gli occhi. Allora io comprendo che per una palpebra j'ai un ombretto metal non è proprio l'ideale perché mette in evidenza le rughe ma dobbiamo essere anche un po' flessibili e quindi io sono contenta che ci sia di nuovo questa tendenza ai colori metallizzati sia appunto per quanto concerne ombretti come può essere ripeto questo che sto indossando oggi e anche per le labbra perché sempre più le case cosmetiche stanno sfornando tinte labbra rossetti con questa tipologia di finish che devo dire mi sta piacendo molto e che una volta non apprezzavo più di tanto. Sesta domanda qual è il tuo passaggio preferito nella tua routine del trucco? Allora senza ombra di dubbio il rossetto infatti i miei colleghi mi chiamavano la regina dei rossetti in quanto non solo ne possiedo più di 600 come collezione personale ma proprio il cosmetico che adoro che preferisco perché mi piace il colore il rossetto è il diciamo il prodotto del makeup che illumina il viso e quindi tutto il trucco e poi ci fa sentire donne ci fa sentire femminili passare questo bullet questo oggetto sulle labbra è proprio un simbolo di femminilità assoluta e adesso che stiamo indossando le mascherine devo dire che comunque non rinuncio e quindi magari cerco di applicare più tinte labbra no transfer che rossetti sicuramente lucidi ma comunque non mi faccio molti problemi. Settima domanda qual è un prodotto per il trucco di cui non puoi fare a meno? Allora questa domanda diciamo che segue un po' la precedente quindi sicuramente rossetto ma di questi tempi visto che indossiamo quasi sempre la mascherina direi il mascara perché almeno mette in evidenza gli occhi e se devo sceglierne solo uno scelgo lui. Ottava domanda cosa ha fatto nascere la tua passione per il trucco? Io credo che la passione per il makeup sia innata la maggior parte delle volte credo che è quello che mi è successo per quanto mi riguarda e devo dire che forse mi hanno influenzato un po' le mie sorelle sono nata in una famiglia di donne ho tre sorelle più grandi e sono la più piccola dalla prima mi dividono addirittura 15 anni di differenza e devo dire che subivo il fascino delle pochette dei cassetti piene di bigiotteria e di trucchini delle mie sorelle infatti ci sono delle foto se le trovo magari ve le metto in questo video di me da piccola dove appunto mi ero truccata con rossetto rosso indossavo tacchi alti e perle di mia madre quindi devo dire sono stata sempre abbastanza fissata. Non ho avuto dubbi quando ho letto questa domanda nel ricordarmi alcuni trucchi fatti su dei clienti all'inizio della mia carriera che erano osceni perché succede sempre così quando vai avanti si aggiornano le tecniche e la tua tecnica va a migliorare vai a rivedere le foto dei trucchi del passato e insomma vedi delle cose allucinanti adesso va sempre meglio però i primi erano vergognosi all'epoca ero molto critica e già mi sembravano abbastanza non corretti ma adesso rivedendoli erano proprio sceni quindi chiedo scusa le prime clienti che mi sono capitate per le mani. Decima domanda qual è invece il tuo preferito il tuo trucco preferito? Devo dire che nonostante io abbia un occhio infossato realizzo su di me molto spesso uno smoky sui toni del borgogna rigorosamente perché ho gli occhi verdi e il borgogna mette in evidenza l'idee verde che questo trucco mi dà molte soddisfazioni è molto molto bello e sono felice di farmelo di proporlo ogni tanto per i miei outfit e ho pubblicato la foto anche su instagram e ricordatevi di seguirmi anche su instagram se vi va vi allego comunque la foto. domanda numero 11 qual è il tuo prodotto preferito da supermercato o low cost? Anche per questa domanda non ho avuto dubbi e ne ho qui due tre esemplari le matite per le labbra di Wicon queste matite costano pochissimo credo 3 euro e 90 ma le trovate spesso in offerta io le ho pagate anche scarse 3 euro quindi anche un euro e 90 in passato e hanno una performance straordinaria che a volte non ritrovo in brand high cost quindi ve le straconsiglio il mio colore preferito è il numero 16 dark pink che è questo colore rosa un po' mauve è un rosa scuro tendente al mauve dodicesima domanda qual è il tuo prodotto preferito costoso e qui ce ne sarebbero parecchi vi faccio vedere un campioncino ma ovviamente qui si parla di full size ma in questo momento ho quello da mostrarvi diciamo un po' tutti i mascara di lancome li trovo favolosi oggi sto indossando l'hypnose classico che sto cercando nella pochette ho questo campione ma ho posseduto anche quello in full size e anche tutti gli altri il drama il dolice il monsieur big che è uno degli ultimi usciti che mi piace tantissimo li trovo tra i mascara diciamo di alta gamma high brand migliori che ci sono poi anche le matite di make up forever le acqua xl che so forse essere andate fuori di produzione il fondotinta di la masca che forse non vi ho mai mostrato e questa palette di charlotte tilbury la film star bronze che ha un illuminante un bronzer favolosi adesso mi si è distrutto l'illuminante ma l'aria acquisterò perché costa ma merita tantissimo la domanda numero 13 qual è il tuo prodotto più riacquistato e anche qui mi ripeterò ma devo mostrarvi la matita marrone per gli occhi di make up forever acqua xl e la matita numero 16 per le labbra di wicon numero 14 qual è il tuo primo ricordo del trucco e anche qui casco male perché sono una persona che tende a dimenticare un po' il passato credo forse che non ricordo neanche quello che ho mangiato ieri e quindi purtroppo non so dare una risposta numero 15 qual è il tuo posto preferito per acquistare il make up in realtà non c'è un posto preferito o migliore per acquistare make up tutti i posti sono buoni dal centro commerciale quindi nelle profumerie ai cost a l'e commerce a supermercati e negozi low cost chi è una beauty addict credo che può comprendere la mia malattia domanda numero 16 qual è il prodotto per il trucco più sottovalutato che possiedi e se devo rispondervi oggi che è 19 febbraio vi rispondo i prodotti di faverlick perché sono la mia ultima scoperta per quanto concerne i prodotti low cost ne ho acquistati adesso vi faccio vedere già tantissimi e mi stanno dando tante soddisfazioni però essendo dei low cost molto spesso mi sento chiedere anche da amiche e dalle mie sorelle ma sono buoni sono performanti e io vi dico di sì sono buoni sono performanti poi se volete avere maggiori informazioni sempre su faverlick scrivetemi qui sotto oppure una mail domanda numero 17 qual è il prodotto per il trucco invece più sopravvalutato che possiedi allora non li ho qui con me ma sicuramente posso dirvi tutti i prodotti di benefit cosmetics sono un truccatore professionista e quindi cerco una determinata performance da quello che utilizzo sia per me che per le mie clienti e devo dirvi che per il rapporto qualità prezzo non me ne voglia l'azienda se mi sta ascoltando ma i prodotti di benefit non valgono la pena non valgono la candela forse salvo qualche prodotto per sopracciglia ma sono veramente pochi quelli che consiglierei di acquistare poi devo dire anche le palette di uda le palette di anastasia beverly hills per quello che costano sono assolutamente sopravvalutate ci sono polveri molto più qualitative a dei prezzi molto molto inferiori numero 18 qual è un prodotto per il trucco fuori produzione che vorresti tornasse allora se è vero che qui mi ripeto le acqua excel di makeup forever sono andate fuori produzione scriviamo una petizione all'azienda perché queste matite sono waterproof bulletproof kiss proof love proof queste le metto anche per andare al mare in piscina e non vanno via ne ho vendute a migliaia alle mie clienti perché io lavoravo per makeup forever fino ad un anno fa e so che adesso da sephora si trovano in una nuova formula in gel ma ho già sentito che delle clienti dicono che non sono più come queste quindi se sono uscite fuori di produzione speriamo che rientrino numero 19 dove trovi l'ispirazione per il trucco e rispondo sia per quanto riguarda il mio lavoro sia per quanto mi riguarda in quanto beauty addict trovo l'ispirazione dai miei stati d'animo ci sono giorni in cui esco anche senza trucco una volta per me era un problema oggi non più forse perché ad una certa età le prospettive cambiano ma sicuramente il mio stato d'animo il mio mood che mi detta le regole domanda numero 20 abbiamo quasi terminato il telefono sta anche per scaricarsi quindi abbiamo fatto giusto in tempo cosa speri di vedere di meno nel futuro del makeup allora se devo rispondervi come professionista vi dico che spero di vedere sempre meno persone improvvisate questo è un lavoro serio come tanti altri anch'io quando devo farmi una pulizia dei denti non scelgo il dentista in base al prezzo che mi propone ma in base alla sua professionalità e quindi è quello che consiglio anche a voi se dovete affilarvi a qualcuno per il vostro matrimonio per uno shooting per un'uscita serale cercate di farvi consigliare sempre da makeup artist professionali e che comunque hanno un minimo di esperienza se invece volete semplicemente dei consigli dalla ragazza della porta accanto che è semplicemente appassionata potete accendere tranquillamente anche solo youtube siamo arrivati alla fine domanda numero 21 cosa speri di vedere di più nel futuro del makeup e questa è una domanda molto propositiva perché non ho nessun dubbio nel futuro del makeup spero di vedere il mio marchio perché se devo sognare oggi alla mia età lo faccio in grande dopo la mia esperienza e il mio sogno più grande è quello di creare una linea di cosmetici con il mio nome e diciamo che già sto andando a lavorare in questa direzione spero che il video tag vi sia piaciuto che anche voi possiate farlo se possedete un canale youtube potete anche semplicemente scrivermi le vostre risposte qui sotto nei commenti se non lo avete ma vorrei taggare delle amiche che appunto sono delle youtubers la prima cristina rosu la mia carissima qui del canale cristina beauty makeup rosu amaryllis del canale cuba libre che è una grande appassionata di makeup e profumi lucia dolcissima del canale l'aliuto roberta del canale woman chic che ha già taggato non sia macchiori taggo a mia volta e floriana una direttrice fantastica del gruppo faberlic che è qui su youtube con il nome di flo flo io vi ringrazio per aver seguito il tag ci vediamo molto presto sta scaricando il telefono quindi vi saluto con velocità e alla prossima se vi va ho fatto anche la rima ciao